Arte e spettacolo, in più vi segnalo una pubblicazione che ha ripreso anno 2000 ma Roma è bella da secoli come appunto una trasmissione dedicata alla cultura romana una nuova pubblicazione che si intitola Galleria Colonna e tutti i cultori che seguono questa trasmissione avranno il piacere sicuramente di leggere infine vi ricordo il consueto appuntamento di domenica alle 14 con una puntata davvero speciale di Corto Notte in Famiglia ed ora reclamo